Sono qui per la giornata mondiale contro la guerra Yemen e contro tutte le altre guerre ancora in corso nel 2021. Innanzitutto per denunciare questo scempio, questa strage quotidiana di neonati, bambini e adulti yemeniti per colpa anche di armi vendute dall'Italia, dall'RVM Italia in particolare, ma non solo, alla rabbia saudita e tutta la coalizione a guida rabbia saudita che appunto sta massacrando civili dal 2015 almeno nello Yemen. Ma più in generale sono qui per denunciare l'Italia per la violenza, come hanno fatto esattamente come hanno fatto i genitori di Giulio Reggeni che hanno proprio fatto un esposto denuncia per la violazione proprio palese e gravissima, io direi addirittura immonda, della legge 185 del 1990, che è stata approvata in Italia nel 1990 e che vieta espressamente la vendita d'armi ai paesi in guerra e ai paesi che violano i diritti umani, come appunto l'Egitto del generale colpista al Sisi, come la Turchia del governo Erdogan, come il governo saudita che è implicato nella morte del giornalista Kassovagi, insomma come tutti sanno, e di tantissime altre violazioni proprio subumane dei diritti umani. E quindi quello che mi indigna di più è proprio il fatto di essere cittadino di un paese che in violazione anche dell'articolo 11 della Costituzione, che ripeto in particolare della legge 185 del 1990, ma anche di un trattato europeo sul commercio delle armi del 2013, continua impunemente a vendere armi a governi criminali che poi le usano per sterminare neonati, bambini, adulti, e lo fanno quotidianamente, lo continuano a fare anche adesso, anche oggi, lo faranno domani. Ecco, quindi questo è il motivo principale della mia presenza qui. La giornata di oggi, il 25 gennaio del 2021, è la giornata mondiale contro la guerra allo Yemen o in Yemen. La nostra presenza qui, che sapevamo che sarebbe stata di queste dimensioni 20-30 persone, voleva però portare in un posto simbolico, davanti al Parlamento italiano, questa protesta che unisce 300 associazioni, più di 300 di associazioni di tutto il mondo e che anche in Italia ha avuto molte adesioni. La Yemen, in realtà, che viene definito il paese più povero del mondo, si trova però in un punto strategico proprio tra dove le due grandi potenze della zona meridientale del petrolio, Iran e Arabia Saudita, hanno un rapporto conflittuale da sempre. ambienti diversi dell'islamismo, da una parte Arabia Saudita, Emirati Arabi, dall'altra Iran e questo che appoggiano l'uno. E in questo, purtroppo, e questa è una guerra che già è una cosa brutta e dolorosa, l'altra cosa brutta e dolorosa è che i nostri paesi occidentali, Italia compresa, in questa guerra, invece di mettere pace, primo, vogliono fare i loro interessi geostrategici, secondo, ci vogliono anche guadagnare soldi proprio vendendo armi di morte. e alcune industrie, più ci sarà guerra e più avranno guadagni nei prossimi anni, cioè è una cosa veramente brutta. Ha altre questioni, infatti, di armi. Sappiamo tutti che è entrato in vigore il Trattato sulle armi atomiche, l'Italia non ha aderito, mentre viene detto da alcuni sondaggi che la maggioranza degli italiani sarebbe a favore di aderire a questo trattato che provisce le armi atomiche. Quindi, secondo me, bisognerebbe fare un fronte comune di tutti quelli che condividono questa posizione e lavorare tutti insieme. Quindi è importante questa questione. Secondo, parliamo molto di recovery fund, di questi 200 miliardi che dovrebbero finanziare piani e bisogna fare sì che questi piani servano a cose utili e non servano a armi, perché già qualche miliardo è già destinato alle armi e invece sarebbe utile destinare parte di questi soldi alla riconversione di industrie di armi. Queste sono tre questioni che poi ricordiamo anche oggi il 25 gennaio è il giorno in cui è stata scoperta la tragedia di Giulio Regeni. Noi continuiamo a vendere delle armi a questo governo. bisogna fare una piccola cosa nel nostro paese, dare importanza non a noi stessi ma alle parole e quindi se tutti siamo contrari alla vendita di armi all'Egitto dire no, non le vendiamo. e magari trovarci tutti qui a chiamare il presidente Fico a parlare davanti a noi, visto che lui lo dice sui giornali, che lo dicesse davanti a mille persone. Cioè bisogna un po' pandemia permettendo, però bisogna tornare in strada. Grazie a tutti.